Il trasporto pubblico locale al centro di una proposta di delibera elaborata dal consigliere comunale di Campobasso di opposizione Francesco Pilone che ha come obiettivo quello di superare le molteplici criticità riscontrate nel servizio. Ci sono delle criticità che benissimo però possono essere superate sulla disponibilità sia dell'azienda ma anche insomma dei lavoratori e dell'amministrazione comunale. Non si deve fare anche un servizio intercomunale che fine ha fatto? Noi stiamo aspettando questo. Innanzitutto mi dà la possibilità per ringraziare un'azienda che da anni fa questo servizio nel comune di Campobasso e lo svolge in linea di massima anche abbastanza bene. Però ripeto ci sono queste criticità che attraverso un bando di gara così come annunciato dall'amministrazione e noi spieghiamo quanto prima possa garantire non solo un servizio per la città ma anche un servizio integrato come questo dice la legge fornendo anche ai paesi limitrofi un'assistenza a livello di mobilità eccellente per permettere anche un deflusso sia verso la città ma che anche verso fuori la città. Per questo con questa iniziativa ho inteso presentare questa proposta di delibera perché ahimè visti i tempi lunghi andremo ad un'ulteriore proroga. Allora dico in virtù proprio di questa proroga perché non proponiamo nel rispetto del pacchetto economico ma una razionalizzazione del servizio.